iscrizione al canale e campanellina grazie se vi fa piacere altrimenti non ci sono problemi ora mercato è chiuso come ho detto stamattina è finito ora però i tifosi dell'inter secondo me i tifosi dell'inter oppure tutte le persone riescono a collegare il primo neurone ogni secondo alla società l'inter presidente bisogna fargli delle domande la prima domanda bisogna fargli solamente una domanda campagna acquisti siamo tutti d'accordo volevamo tutti altri giocatori non sono potuti arrivare perché non c'era la possibilità di farli arrivare però bisogna chiedergli una cosa allora l'inter non ha venduto nessun big l'anno prima ne vende due la situazione debitoria peggiora viene fatta la rivalutazione del banchio quindi mossa della disperazione e con una situazione peggiore a quella dell'anno scorso parlo in termini di debiti non viene venduto venduto nemmeno un big nemmeno uno ripeto lasciamo perdere chi è scontento del mercato perché anch'io come voi avrei voluto innanzitutto non vedere acerbi all'inter non ho problemi a sottolinearlo e poi avrei voluto vedere un esterno sinistro avrei voluto vedere un altro centro lampista un altro attaccante un centrale difensivo di livello perché ragazzi l'arrivo di acerbi non va sottovalutato proprio in termini campo partite perché innanzitutto è un giocatore che l'allenatore stima molto e poi il quarto difensore in una squadra dove giochi a tre le partite se non è oggi o domani e le gioca tra infortuni tra squalifiche tra qualcuno deve riposare quarto difensore gioca ragazzi è molto probabile giochi in più a tutta la stima dell'allenatore motivo per cui era meglio non vederlo però ormai c'è era quello che questa proprietà questa proprietà ormai si può permettere solamente se stiamo diventando la discarica della lazio di tante altre società ma peggiori così non poteva andare ma va bene tanto una cosa è che finirà presto però la domanda che bisogna fare all'inter alla dirigenza no magari ma proprio la proprietà con 700 milioni di debiti non hai venduto nessuno questa è comunque una proprietà che perde dai circa 18 milioni al mese e da quindi delle perdite stimate in 200 milioni all'anno e mi volete far credere che voi in questa situazione economica non che gli amministratori non fanno nulla stanno fermi non fanno un piano di rientro non mettano un tetto ai salari dai ragazzi dite dite la verità ai tifosi dell'inter dite cosa sta succedendo ditegli la verità che senso ha la gente se le fa queste domande come fai a non aver venduto nessuno come fai ad andare avanti non c'è un piano di rientro un amministratore di un'azienda normale cioè andrebbe incontro a dei guai gestendo un'azienda in questa maniera perché non viene fatto nulla all'inter perché stanno tutti i siti questo bisognerebbe chiedere compreso al giapponese questo bisogna chiedersi perché perché eventualmente dietro c'è già qualcuno che è pronto a rilevare tutto perché se zanga avesse avuto in mente di raddoppiare triplicare o quadruplicare avrebbe fatto fare un piano di rientro avrebbe messo un tetto ai salari tetto ai salari dall'altro è stato fatto è stato fatto un articolo no stamattina della riduzione degli ingaggi non c'è nessuna riduzione degli ingaggi che ci sono le buone uscite all'autaro gli hai messo 4 milioni ne prende 6 e a scelvi prende 2 milioni ma non uno quindi non è stato ridotto nemmeno il monte ingaggi non è stato messo nessun tetto anzi ai centravanti è il più pagato della serie a questo bisogna chiedersi perché un amministratore che gestisce chiamiamo l'azienda un'azienda che perde 18 milioni all'anno che ha perdite stimate in 200 milioni annui non fa un piano di rientro non mette un salary cap non fanno nulla continuano ad accumulare su accumulare su accumulare debiti dite la verità ai tifosi dell'inter perché prima o poi ci arriveranno tutti ciao inter